Tamponi e Green Pass, la scuola marchigiana si prepara al rientro. Covid raddoppiano i casi di contagio in regione. Mal tempo, fiumi di fango nelle colline pesaresi. Libri, mazzoli, racconta Sara Matteucci e si candida al premio Zanibelli. Corriere il saluto a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle Digitale Terrestre per i trovati a Rossini News, il nostro telegiornale che in questa edizione di mercoledì 25 agosto apriamo occupandoci delle tematiche sanitarie relative al rientro a scuola in sicurezza. Mancano infatti 20 giorni al 15 settembre, la data che contrassegna il rientro in aula per l'anno scolastico 2021-2022 rientro totalmente in presenza e la regione è alle grandi manovre per contemperare ogni esigenza. Vediamo. A 20 giorni dal suono della prima campanella sull'anno scolastico 2021-2022 previsto il 15 settembre, le Marche si preparano al rientro in aula in didattica e in presenza, divise fra obblighi e opportunità. L'imposizione del Green Pass al personale scolastico per accedere agli istituti sta spingendo la regione a munirsi di ampie dotazioni di tamponi per andare incontro a quella componente, seppur minoritaria, riluttante al vaccino. Gli assessori Giorgia Latini e Filippo Salta Martini hanno infatti preannunciato l'acquisto di 500.000 test salivari dopo il confronto tenutosi ieri con quattro comitati marchigiani rappresentanti presidi, docenti e personale favorevole alla libera scelta vaccinale. Allo stesso modo, le Marche si stanno facendo carico di insistere con la conferenza Stato-Regioni per riconoscere la validità per il Green Pass anche ai cosiddetti tamponi lecca-lecca. Validità che attualmente è in vigore solo per i test molecolari. I salivari invece sono più rapidi, economici e ritenuti affidabili ma non ancora inclusi nell'avvalorare la possibilità della certificazione verde. 500.000 test salivari rappresentano un altro consistente investimento della regione dopo lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'acquisto di impianti di ventilazione meccanica e sanificatori in vista dell'anno 2021-2022. Insomma, si sta cercando ogni strada percorribile per garantire il regolare svolgimento delle lezioni anche a coloro che non vogliono vaccinarsi. Ma mentre nel personale scolastico i non immunizzati restano una minoranza, l'ultimo report dell'ufficio scolastico regionale riporta come solo uno studente su tre al momento risulti vaccinato. L'accelerata è infatti di appena il 2% di vaccinati in più rispetto a una settimana fa. In pratica la campagna vaccinale cresce ma senza decollare. Nei ragazzi fra i 12 e i 15 anni risulta infatti che solo il 18,5% è stato completamente immunizzato mentre alla data di ieri hanno ricevuto anche la seconda dose il 48,7% dei ragazzi fra i 15 e i 18 anni. Secondo l'osservatorio epidemiologico regionale mancano dunque ancora l'appello della prima dose 46.000 giovani in età scolare pari al 42,4% della popolazione studentesca marchigiana. E restiamo in tema di scuole perché la provincia di Pesaro Urbino ha annunciato oggi di aver intercettato 490.000 euro di risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione. Finanziamenti che soddisferanno le richieste dei progetti presentati dalla provincia per ampliare diversi spazi didattici. Nel dettaglio saranno possibili il nolleggio di container per l'Istituto Celi di Piobbico e per il Liceo Scientifico Marconi di Pesaro. Si completerà l'adeguamento delle aule del Liceo Artistico a Polloni di Fano, dell'Istituto Donati di Fossombrone e dell'Istituto Volta di Fano. Così come si sistemerà l'area sportiva del Liceo Classico Mamiani di Pesaro al campus scolastico e si potrà anche investire sull'affitto di locali per il Mamiani in zona Viale Trieste. Quella di oggi è stata una giornata di impennata di contagi e ricoveri da Covid-19 nella regione Marche con 259 nuovi casi positivi, cioè più del doppio di quelli rilevati ieri per una percentuale di positività al contagio che sale ora al 15%. Contagi bene distribuiti fra le province, il picco ad Ancona con 67 casi, 47 quelli invece rilevati a Pesaro Urbino. Continua invece a preoccupare l'ascesa dei ricoveri che salgono a 78, cioè una ventina in più negli ultimi due giorni. Restano però stabili le terapie intensive con 11 pazienti attualmente in decenza. E dopo mesi di siccità ogni giornata di precipitazioni continua a rivelarsi violenta e procura disagi come quelli accaduti questa mattina nelle colline intorno a Pesaro. Un temporale all'alba è una bomba d'acqua a metà mattinata per allagamenti, smottamenti e fiumi di fango nelle colline pesaresi. Per ore operatori della provincia, vigili del fuoco e forze dell'ordine di Pesaro e Monbaroccio sono intervenute oggi su diverse criticità createci sulle strade a causa del maltempo. Sulla provinciale 32 Pesaro-Monbaroccio si sono infatti registrati allagamenti e un principio di frana di valle, tanto da rendere necessario il transito per alcune ore a senso unico alternato. La strada è stata più volte ripulita per il continuo ripetersi di violenti acquazzoni, così come sono stati necessari interventi per smottamenti di monte sul tratto iniziale del trebio della sconfitta in direzione Candelara. Per due ore la strada è rimasta anche chiusa al traffico per consentire la rimozione di piante e terra dalla carreggiata. Altro lavoro dopo quello che martedì aveva visto allagamenti sulle provinciali Colbordolo, Pontevecchio e Carignano. Sì, dalle 5 di questa mattina che tutti i nostri operatori, coordinati dal funzionario di turno Bertulli e dal direttore generale, sono impegnati sia noi operatori che le ditte da noi incaricate assieme ai vigili del fuoco, alla polizia provinciale e ai carabinieri. Una bomba d'acqua così importante, si parla di circa qui nella zona di 100 mm di pioggia, in pochissimo tempo questo è chiaro che ha creato scompiglio. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e tutto ciò ha permesso che non accadesse nulla. Il presidente della provincia, Peppino Paolini, stamattina ha seguito costantemente l'evolversi della situazione assieme al direttore generale, abbiamo cercato di coordinare assieme ai vigili del fuoco, assieme alla polizia provinciale, insieme agli operatori della viabilità per un intervento, i carabinieri, per far sì che non succedesse nulla. E sono disagi da maltempo che continuano a rivelarsi sistematici in alcune aree residenziali collinari. È il caso di strada a Ponte Morotto fra Candelara e Santa Veneranda, anche oggi paralizzatasi per il fango. Una strada sulla quale il consigliere comunale della Lega, Roberto Biagiotti, ha presentato una interrogazione. Ascoltiamolo. Questa strada è una strada nominata dal comune che fa parte della nostra viabilità. non è possibile che i cittadini che pagano regolamenti, i contributi, le tasse e tutto si vedano sprovvisti di qualunque aiuto. Allora, per carità, è vero che le dinamiche di intervento sono legate alla competenza sulla strada, però è anche vero che in caso di emergenza, e questi cittadini l'hanno fatto presente da anni, che la strada è inversa in una condizione di totale abbandono e degrado e bisogna intervenire. Poi dopo, successivamente, possiamo anche ridisegnare quelle che sono le competenze e la gestione della strada in quanto tale, ma nell'immediato era opportuno intervenire. Non è possibile che ci sono dei pensionati che con la loro pensione si tolgono parte di questa pensione per pagare camion di brezza, come è stato fatto, oppure i cittadini si mettono insieme per attivarsi e per sistemare la strada di loro pugno. Allora, io dico, aiutiamoli, cerchiamo di trovare un punto d'incontro per sistemare oggi la strada e poi dopo programmare una manutenzione della strada stessa. È per questo che ho presentato un'interrogazione per capire bene quelli che sono i punti di difficoltà dell'intervento della Forza Operativa del Comune, in quanto la provincia non è più presente. I frontisti, chiaramente un pezzo, un è frontista in alto, un a metà, un in basso, per piccoli tratti. Quindi era opportuno avere un'organizzazione a 360 gradi della macchina operativa del Comune che facesse, diciamo, dar accordo a tutti questi soggetti e poi nel lungo periodo la manutenzione e la gestione fosse ripartita nel modo migliore. Quindi il Comune non può sottrarsi da questo. Ci sono cose importanti, sì, ma ci sono anche altre cose come queste che sono importanti perché non può una persona non avere la libertà di uscire di casa. La casa deve essere sempre accessibile e sempre libera, nell'ingresso e nell'uscita. Dopodiché la gestione e l'organizzazione del mantenimento di questo servizio possiamo trovare la condizione migliore per farlo, visti i cambiamenti anche amministrativi che ci sono stati, ad esempio della provincia. Però noi non possiamo assolutamente come pubblica amministrazione come Comune di Pesaro, avere dei cittadini che sono nella nostra città, che pagano le tasse della nostra città, lasciarli in questo Stato. Questo non è assolutamente possibile. Quindi io invito al Sindaco, invito all'assessore competente e tutti i colleghi del Consiglio Comunale che prima di pensare alle grandi opere, alle grandi cose, dobbiamo limitarci a queste piccole cose perché in qualunque altra realtà d'Italia l'avrebbero già fatto e già sistemato. Una lite di una coppia Umbra in vacanza sul lungomare Baia Metauro è degenerata richiedendo l'intervento della polizia di Fano. L'episodio è accaduto lunedì sera quando un cinquantenne ha deciso di barricarsi in casa minacciando di usare due sciabole in suo possesso. Il personale della polizia ha intavolato una lunga trattativa a distanza con l'uomo, riuscendo dopo due ore a calmarlo, farsi aprire la porta e consegnare le sciabole. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per un colloquio psichiatrico, dopodiché si è scusato con le forze dell'ordine per il disturbo arrecato. E poco fa in Piazza del Popolo è stato tagliato il nastro la festa dell'Unità 2021. Dopo l'incontro di apertura vi ricordiamo i prossimi dibattiti. Questa sera alle 21.30 si parlerà di prospettive europee con l'eurodeputata Simona Bonafè e l'ex presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Domani focus sulle città della cultura per l'Italia, sulle marche della doppia ricostruzione e sulle tematiche del lavoro post-covid alla presenza del segretario generale della CGL Maurizio Landini. Ed ora lo spazio dedicato alle segnalazioni di voi telespettatori che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Nel prossimo servizio Rossini TV ha infatti acceso le sue telecamere su una situazione di degrado e di incuria segnalataci nel quartiere pesarese di Montegranaro. Ci troviamo davanti al parco di via Meucci nel quartiere di Montegranaro. L'area verde al cui interno è presente una piccola zona per bambini, oggetto di diverse segnalazioni da parte dei residenti e dei fruttori del parco che denunciano le cattive condizioni in cui versa il suolo pubblico. Più nello specifico, i cittadini hanno segnalato il pessimo stato in cui riversa il terreno, che presenta buche anche di notevoli dimensioni, panchine rovinate e mal ridotte e una vegetazione incolta e poco curata. Tra le diverse problematiche denunciate, buona parte di queste nascono dal mancato rispetto dei cittadini nei confronti delle regole da seguire. All'ingresso del parco, infatti, è presente un cartello che vieta l'accesso ai cani, ma nonostante questa proibizione, alcuni padroni degli amici a quattro zampe non si avvedono a rispettarlo. Numerosi, infatti, i cittadini che quotidianamente non smaltiscono correttamente gli escrementi dei propri animali, ignorando di fatto il segnale di divieto posto all'entrata della zona giochi. Un cartello che però verse in un cattivo stato e di conseguenza il comune di Pesaro si è da tempo adoperato per rapporre un altro cartello che indica il corretto regolamento da seguire all'interno dell'area verde. I frequentatori del parco hanno denunciato anche la costante inciviltà e non curanza del solo pubblico da parte di alcuni cittadini, a causa di numerosi rifiuti non gettati negli appositi bidoni, ma lasciati sul terreno, come mascherine, cartacce e mozziconi di sigarette. Ed ora spazio alla cultura ed in particolare ai libri. Sara Matteucci, Il mistero della fede bambina è la storia che ha approfondito la penna di Roberto Mazzoli, giornalista e direttore del settimanale Il Nuovo Amico, che ha realizzato un'opera candidatasi al prestigioso premio letterario Angelo Zanibelli. Lo scorso sabato 21 agosto, nel suggestivo esterno del convento francescano del Beato Sante di Monbaroccio, ha riscosso grande partecipazione e interesse di pubblico nel rispetto delle regole anticovid, la presentazione del libro Sara Matteucci, Il mistero della fede bambina, edito da San Paolo. Il libro, scritto dal giornalista Roberto Mazzoli, direttore del settimanale Interdiocesano Il Nuovo Amico, è infatti candidato al prestigioso premio letterario Angelo Zanibelli, presieduto da Gianni Letta e vede in giuria nomi di spicco della cultura italiana come Candida Morvillo, Maria Latella, Paola Binetti e Giovanni Malagò. Un libro che racconta Sara Matteucci, bambina nata a Padiglione di Tavuglia nel 1978 e morta a soli sette anni e mezzo. Una breve vita in cui Sara coltiva una straordinaria spiritualità. A soli cinque anni si ammala infatti di un tumore che la costringe a numerosi interventi e cure dolorose. Nel corso della malattia però Sara non si lamenta mai e matura una fede nel Signore che sorprende i sacerdoti che seguono il suo cammino. È lei infatti a consolare tutti. Oltre alla prefazione dell'arcivescovo di Pesaro Monsignor Piero Coccia, il libro offre una postfazione di fratella Edino De Carolis, biografo di Antonietta Meo, meglio conosciuta come nennolina proclamata venerabile a soli sei anni da Papa Benedetto XVI. Alla presentazione del libro, oltre all'autore, sono intervenuti Angelo Alice Matteucci, genitore di Sara, padre Renato Martino, guardiano del convento francescano, il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci, il presidente della Proloco Damiano Bartoccetti e Daniele De Marche, amico di Sara, così come Michele Mucciacito, autore del brano musicale Dondola dedicato alla piccola di Padiglione. Parte dei ricavi delle vendite del volume sono stati devoluti alla missione delle suori di Don Orione a Barrancheras in Argentina, dove da alcuni anni è sorto, in memoria di Sara, un quartiere di 20 case che oggi offre riparo a numerose famiglie altrimenti costretti a vivere nelle viglias, autentiche discariche umane del tutto simili alle favelas brasiliane. E passiamo dai libri agli spettacoli come quello del gruppo teatrale degli Indimenticabili che venerdì alle 21.15 è pronto a far divertire il pubblico dell'arena BCC di Fano. Ascoltiamo i protagonisti della compagnia dialettale intervistati da Antonio Astuti. Noi siamo gli indimenticabili, 27 anni che stiamo insieme a recitare sopra il palco, una compagnia nata così per gioco, abbiamo una particolarità, che le nostre commedie, i nostri sketch sono nostri e senza copione, quindi è un po' improvvisato. C'è proprio una pratica vera e propria che si chiama improvvisazione teatrale, quindi siamo su quella strada. Sì, sì, perché la commedia, se tu vedi la stessa commedia non è mai uguale, può durare un quarto di più, un quarto di meno, perché è tutta improvvisazione, puoi mettere, levare, togliere senza problemi. Siamo felici di partecipare per la prima volta al Teatro Sotto le Stelle qui a Fano e speriamo di divertire. Il nostro scopo è solo uno, è divertirci e far divertire. Noi abbiamo partecipato alla corrida nel 2003 e abbiamo vinto il televoto, andando alla finale perché è una cosa, la prima volta con un sketch teatrale alla corrida con Gerry Scotti, poi era nel 2003, la prima volta che è stato portato uno spezzone di teatro alla corrida, che no, canti, poesie, balli, ecco. Siamo riusciti anche lì a far divertire. Concludiamo il nostro telegiornale con una notizia di sport, perché dopo quattro stagioni a Pesaro, Mattia Gennari non è più un calciatore della Vispesero. La notizia era nell'area da un paio di mesi per l'intenzione della società biancorossa decisa a separarsi dal 29enne Umbro. Oggi è arrivata la risoluzione consensuale dopo 112 partite e 7 gol con la maglia biancorossa. Gennari approderà alla pistoiese allenata dall'ex tecnico vissino David Sassarini. Intanto la visse ha ufficializzato anche l'ingaggio dalla Roma del giovane centrocampista classe 2002 Andrea Astrologo, che nell'ultima stagione ha militato nella primavera dell'Ellas Verona. E con questa notizia di calcio si conclude la nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che ha le 21 e 15 dedicata alla grande musica, quella dei maestri della musica russa a Gradara, omaggio a Dante e a Rossini. Dunque non perdetevi questo appuntamento concertistico alle 21 e 15. E soprattutto tenete a memoria ora questa indicazione, ve la ricorderemo spesso in questi prossimi giorni, perché dal primo settembre cambia l'edizione di Rossini News. Il telegiornale di Rossini TV non sarà più alle 19 e 40 come prima edizione, ma ci sarà un'unica edizione alle ore 20 e 40. Una scelta motivata per dare sempre maggiore spazio nella fascia precedente alle ore 20 a tutti i nuovi programmi che stanno nascendo su Rossini TV. telegiornale ma anche programmi che potete consultare anche sull'app di Rossini TV, uno strumento facile e veloce per avere sempre la nostra emittente a portata di click. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Da parte mia e di tutta la relazione vi auguro un più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi.